di Grassano sempre accompagnato Siscrax dalle edizioni precedenti, ricordiamo sia in questa edizione le visite ai Cinti, sia nell'edizione precedente le visite agli Affreschi che abbiamo fatto insieme e vi lascio introdurre magari un po' anche quelli che possono non conoscere del nostro pubblico il lavoro che avete fatto e fate fino a questo momento rispetto alla città di Grassano, il suo patrimonio storico, culturale, architettonico, artistico, chi più ne ha più ne metta. Grazie, io sono Domenico, sono l'amministratore di questo gruppo Whatsapp che è nato in maniera spontanea e quindi illustrerò questo gruppo, poi Innocenzo Bronzino ci parlerà un po' di storia e Anna ci parlerà di un personaggio di Grassano e poi chiuderemo, chiuderò anche io con qualche aneddoto che si è sviluppato durante questo percorso. Il gruppo che non è un'associazione, è un gruppo spontaneo, è un gruppo Whatsapp alla scoperta di Grassano è nato per caso, non è stato voluto, è nato per caso perché è nato per realizzare una puntata, una diretta Facebook e Youtube su un format culturale di La Casa del Menestrello di un signore di Matera, si chiama Domenico Faniello, che organizzava queste situazioni culturali nel periodo del Covid, quindi li faceva su internet e quindi creai questo gruppo al fine di realizzare questa diretta su Grassano, che era un premio di un contesto fotografico vinto da mia moglie Rocchina Rivello, che non è di Grassano, lì di Picerno e quindi con lo sguardo del forestiero, del turista, fotografò uno scorcio particolare del paese che ha vinto questo contesto fotografico e qual era il premio del contesto fotografico? una puntata sul Grassano per valorizzare il paese e quindi abbiamo realizzato questa puntata e che è successo? Questo gruppo, che era formato di otto persone, invece di morire, perché di solito è un gruppo finalizzato a un evento, dopo l'evento muore, questo gruppo invece di morire ha continuato a parlarsi, a scambiarsi informazioni, è cresciuto, altre persone sono entrate e abbiamo scoperto un mondo di studiosi, appassionati della storia locale, un mondo nuovo, di gente come Innocenzo Bronzino, Innocenzo Pontillo, Giuseppe Bolettieri, Anna e via dicendo, persone non solo appassionate, ma anche con metodo di ricerca, anzi minuziose, però ognuno ha specializzato in un settore, invece questo gruppo ha fatto da tramite, cioè ha permesso a queste persone di scambiare l'informazione tra di loro e di mettersi in rete, cioè noi siamo riusciti a realizzare una rete, e perché ci siamo riusciti? Non è che siamo più bravi degli altri, ci siamo riusciti perché abbiamo trovato una serie di persone disinteressate, appassionate, il cui scopo è proprio quello di valorizzare la storia locale, studiare, far conoscere, perché prima devi conoscere, poi una volta che conosci puoi valorizzare, è il fine ultimo è preservare, e quindi poi questo gruppo diciamo da otto persone è cresciuto, è arrivato a 60, adesso siamo 60 persone, quindi dopo due anni continua ad esistere, e qual è diciamo il segreto? Il segreto è che c'è la voglia proprio di riscoprire, ci sono persone, perché nel gruppo ci sono persone che sono sia di grassano, ma persone di fuori, che hanno proprio quest'amore, non solo verso il paese, ma proprio verso la conoscenza, e perché dopo due anni resiste ancora a questo gruppo? Perché risponde a un'esigenza latente che c'era e che è stata colmata poi casualmente, in maniera casuale da questo gruppo. Quali sono state le attività, diciamo le attività principali di questo gruppo? Sono state le cinque puntate, abbiamo realizzato cinque dirette su Grassano, alla fine su Facebook e su YouTube, tramite questo format La Casa del Menestrello, poi abbiamo anche, su intuizione di Innocenzo Bondillo, abbiamo realizzato uno studio sugli affreschi, perché nell'ex convento francescano attuale comune ci sono due notevoli affreschi che non sono mai studiati. Allora Innocenzo Bondillo dice a questo punto li studiamo noi, facciamo un sottogruppo e sono uscite delle informazioni molto molto interessanti da questo studio degli affreschi. Poi abbiamo fatto anche altri lavori, oltre alla collaborazione poi con naturalmente tecnologici, questi affreschi poi li abbiamo aperti al pubblico, sia a luglio sia in occasione di naturalmente tecnologici l'anno scorso e abbiamo continuato con varie attività, tra cui anche la mappatura del patrimonio storico-culturale su Google Maps, adesso anche su StoryMap, Nino sta creando uno StoryMap, insomma si sta creando tutta una serie di situazioni dove si sta creando, abbiamo notato che questo gruppo funge anche da stimolo, sia dai componenti stessi, magari come Innocenzo, come Giuseppe Bollettieri, persone che fanno parte del gruppo, che avevano dei lavori in sospeso e adesso li hanno ripresi e li vogliono ultimare e poi fungono da stimolo anche verso altre situazioni del paese perché comunque manifesta un fermento. Adesso per non tediare voglio passare la parola Innocenzo così ci parla un po' di storia. Poi continuo a Anna con la storia di un personaggio di Grassano poco noto e concludiamo con qualche aneddoto ho visto che i tempi sono stretti. Io passo subito la parola. Grazie. Allora buonasera, perdonerete che ho un fogliettino con qualche appunto perché l'età mi fa dei brutti scherzi con la memoria e quindi ho preso qualche appunto. Con il permesso del moderatore, se poi qualcuno ha voglia di interrompermi, lo faccia pure perché credo che sia utile, necessario, anche uno scambio di opinioni, di vedute, non semplicemente una proposizione, una lettura di una serie di avvenimenti. e dunque di Grassano si dice che Grassano non ha storia. Ghegancio mangia la storia di nobili, di baroni, di badesse. È una storia fatta di popolani. La storia di Grassano, che è ancora tutta da scoprire, è la storia dei piccoli contadini, dei braccianti e dei dei piccoli artigiani che con grossi sacrifici in una terra spesso ingrata e sempre angariata da feudatari esosi sono riusciti a sopravvivere qualche volta ad avere anche qualche piccola fortuna. Ovviamente le prime notizie che si hanno su Grassano sono tratte dai cosiddetti registri angioini cioè della cancelleria angioina. Io personalmente avanzo un'ipotesi e ve la propongo qui leggendo il libro di Re Ruggero c'è un libro fatto da un geografo arabo di nome Edrisi che nel 1154 viaggiò per il Mezzogiorno d'Italia. Ecco questo geografo ha rappresentato la nostra regione e allora lui parla di una cittadina che si chiama, dunque il libro è stato poi trascritto, tradotto dall'arabo da un illustre arabista da Michele Amari, un siciliano dell'Ottocento. Lui dice c'è un paese che si chiama Truguric che sarebbe Tricarico, un altro Grottole e poi lui dice c'è Grassano che Michele Amari lo legge come acerenza, io proponderei più per Grassano, cioè è più vicino Grassano che acerenza, quindi questa è la prima sentenza, la prima documentazione della nostra comunità. Poi va bene, sempre sul registrangioino si parla di Grassano che era data da Restaino de Romulo, però ecco qui anche io non sono d'accordo perché a questo Restaino de Romulo fu data la città Specchia in provincia di Lecce che specchia anche esso un casale Grassano. Con Domenico ci siamo un po' divertiti a cercare tutti i toponimi di Grassano in Italia. Allora c'è questa frazione di specchia, un paese in provincia di Lecce che si chiama Grassano, poi c'è un fiume nel Beneventano che si chiama il Grassano, poi in provincia di Reggio Emilia a San Polo su Lenza addirittura tre frazioni che si chiamano Grassano e in Piemonte c'era un paese che fino al 1867 si è chiamato Grassano e da allora si è chiamato Grazzano, poi siccome è nato Badoglio lì si chiama Grazzano Badoglio, ecco per dire come è fluida la ricerca negli anni delle localizzazioni dei paesi. Nella prima vera notizia che abbiamo di Grassano risale il primo grosso documento alla cosiddetta sentenza della Candela, un episodio del 1414. Cosa successe? Che al condottiero Francesco Sforza, figlio di Muzzi attendo lo Sforza, il re Ladislao di Napoli dette in concessione dette tricarico. Sì allora i sovrani, i principi davano, barattavano popolazione e paese come se fosse roca in effetti poi purtroppo era roba loro, davano così concedevano. Allora Muzzi attendo lo dettero tricarico. Questo signore venne e si accorse che tricarico aveva un casale che si chiamava Grassano che da lui, lui però non ricavava niente da Grassano. Cioè io ho avuto tricarico ma perché da Grassano non devo avere soldi? E gli disse no guarda che Grassano è amministrato dai cavalieri gerosolimitani e lui gli fece una causa. Questa causa il re Ladislao mandò il suo giustiziere e nella sede di San Mauroforte perché era la città più fedele al re fecero questa causa in cui si è deciso sì Grassano è dei conti di tricarico però viene amministrato dai cavalieri gerosolimitani che sarebbe i cavalieri poi si sono chiamati cavalieri di Malta. Quindi cosa ricavava il signore di tricarico da Grassano? Soltanto i proventi della portolania. Cos'era la portolania? Era la tassa che mettevano i portolani, questi amministratori, sugli animali dei forestieri che pascolavano nel territorio di Grassano. Però solo nel territorio perché all'interno del comune della cinta dell'abitato di Grassano invece erano sempre i signori che in quel momento c'è il commentatore di Malta che riscuoteva le tasse. Quindi tutta la storia ripeto di Grassano è stata questa. Un signore che spesso era lontano, anzi due signori, Grassano aveva la fortuna di avere non un padrone ma due padroni quindi con due imposizioni, sia il conte di tricarico che poi era anche il duca della Salandra, sia i cavalieri gerosolimitani. E questi cavalieri imbonevano alla popolazione il terraggio. Sapete cos'è il terraggio? Il terraggio sarebbe quello che il canone, il fitto che il conduttore di un terreno doveva dare al padrone. In genere a quell'epoca il fitto era la mezza semenza, cioè si doveva dare la metà di quello che si seminava, tranno Grassano che dava la semenza intera. Allora i cittadini di Grassano, voglio dire sfiduciosi, speranzosi della legge, fecero una lunga causa alla reggia Camera della Sommaria che era un tribunale tipo oggi la Corte dei Conti, a Sacro Reggio Consiglio però una causa che è durata due secoli e mezzo però hanno sempre buscato, hanno sempre perso e hanno sempre pagato. Anche qui io ho purtroppo una visione eterodossa della storia. Io per esempio non sono d'accordo sul fatto che per Grassano è stata una fortuna avere i cavalieri di Malta, ma se tutti tutti gli altri comuni viciniori erano trattati meglio perché dove sarebbe stata questa fortuna per noi? Nel 1768 ci fu una grave siccita in tutta la provincia di Basilicata. La chiesa matrice di Craco, di un comune nel Materano che era proprietaria di tanti terreni, avrebbe dovuto avere come fitto 800 tomoli di grano però, visto che c'era stata la siccita, ne pretesse soltanto 60. Ugualmente la chiesa, la matrice di Pisticci è la stessa cosa, invece, eppure lei invece di 860 quando lei ne chiese addirittura ne chiese soltanto 80 e il fitto era sempre a mezza semenza. A Grassano che rendeva semenza invece non ci fu verso i baroni, pretesero fino all'ultimo acino di grano di questo, di questo, di questo, di questo tributo. Ecco, poi c'è da dire, tutte queste notizie, noi da dove l'abbiamo ricavato? Io ho letto le carte del, nell'archivio di Stato di Napoli, aprendo queste carte pensavo tra di me, dice, ma chissà se qualcuno prima di me l'ha aperto e l'ha visto, questo. Poi seppi che era il signor Pontillo che lui l'aveva aperto, l'ha preso e aveva fatto anche la fotografia, aveva fotografato un'immagine seicentesca del mulino, del mulino del Basento. Quindi, ecco io, c'era stato già, voglio dire, un altro che ha visto questo e così come due, solo noi due, spero che ce ne siano degli altri. Un'ultima cosa, vorrei dire, per non dediarvi molto, io sto preparando un lavoro che pubblicherò, e lo dico già da adesso, regalerò il libro, non lo metterò in vendito, lo regalerò a chi non chiede, sulla quotizzazione di Macchitella, cioè i terreni di Macchitella erano sempre della commenta, poi con le versioni della feudalità, con la soppressione della commenta, furono incamerate dallo Stato e lo Stato li divise fra i cittadini non abbienti. Questa quotizzazione avvenne nel 1812 e finì il 1894, quando il sindaco di allora, che si chiamava Ferdinando Materi, disse che vabbè, loro dalla Macchitella ricavavano solo un fitto di 400 lire annue, quando invece precedentemente nel periodo borbonico il fitto era di 1000 ducati, che siccome il tasso di cambio tra ducato e lire era di 4,2, quindi mentre prima ricavava il comune l'iguale di 4.000 lire, dopo l'unità ne prendeva soltanto 400 e quindi non vi vorrete diare, avrei ancora altre cose da dire, però avrei piacere se o qualcuno vuole chiedere delle cose oppure faccio, posso passare, posso già passare? Sì, sì, prego. Allora passiamo ad Anna? Passiamo ad Anna. Anche se ti ascolteremmo all'infinito, i tempi sono stretti. Userei quello che funziona meglio. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Oggi vi parlerò di un artista nato a Grassano nel 1875, il suo nome è Orlando Giuseppe Orlandi. All'incirca dieci anni fa ci è comparso questo nome a me e mio fratello, Orlando Orlandi, uno dei più grandi pubblicitari di fama internazionale nato a Grassano. Per noi questo risultò una novità perché mai nessuno ne aveva sentito parlare. Abbiamo iniziato una ricerca e grazie a Dio le sue opere sono conservate nei musei civici Luigi Bailo a Triviso in quanto un suo pronipote trovò una valigetta con tutti gli schizzi conservati da suo nonno con le sue grafiche pubblicitarie. Lui visse poco a Grassano, si trasferì subito a Firenze per studiare arte, poi a Roma, poi a Pisa, per quasi vent'anni è stato a Parigi dove ha lavorato con i maggiori artisti dell'avanguardia, ha lavorato per i cantieri navali Lion Sabaudo, per i cicli Cellina, venne incaricato come grafico ufficiale dalla Singer per la macchina da cucire e nel 1925 venne scelto dal regime fascista come grafico pubblicitario per la battaglia del grano. Solo questo particolare ci fa riflettere su quanto fosse importante questo artista. Egli in realtà non fu mai fascista ma venne adoperato più volte soprattutto grazie alla figura di Giuseppe Bottai che fu una di quelle figure moderate del fascismo, moderate fino al 1938 in quanto in quella data anche egli firmò per le leggi razziali. Di questo artista abbiamo trovato una serie di lavori in quanto ha lavorato presso le officine grafiche ricordi nate in Italia nel 1898 che hanno seguito la nascente cartellonistica pubblicitaria tra Italia e Francia. E in ogni progetto di grande valore il primo nome che compare è proprio quello di Orlando Orlandi. Purtroppo a Grassano, suo paese nativo, nella sua persona e nei suoi lavori sono conosciuti. È un soggetto che è stato praticamente dimenticato dalla storia. Nel 2014 con l'associazione Parco dei Cinti abbiamo realizzato il primo memoriale in suo onore e hanno con una mostra di artisti di Grassano o originari di Grassano e sono venuti un po' da tutta Italia. Abbiamo raggiunto il numero di 42 artisti che hanno esposto in suo onore. Purtroppo ad oggi non esiste una strada, non esiste nulla che ricordi di questo artista, ma è un grande peccato proprio perché le sue opere sono state racchiuse in un archivio digitale da questo suo pronipote Fabio Orlandi. Abbiamo ottenuto anche un'autorizzazione per la riproduzione, quindi potrebbero essere al servizio di tutta la comunità. E chissà magari l'anno prossimo per Siscrack potremmo mostrarvi le sue opere magari in una cantina all'interno dei Cinti per dare valore a questo grande uomo. Io vi invito a mettere il suo nome Orlando Giuseppe Orlandi su Wikipedia per poter ammirare le sue opere. Lì vedrete un misto tra realismo, arte liberty, arte povera, futurismo. Orlandi è stato veramente un artista eclettico in tutto quello che faceva. È stato anche progettista navale e quindi una figura che non può rimanere nell'oblio della memoria. Egli nacque nel 1875 ed è diciamo più o meno coetaneo ad altri personaggi di Grassano come Gaetano Briganti che è nato nello stesso anno e mi piace anche immaginare che magari da piccoli vi giocavano insieme. Nel 1877 invece Arcangelo e il vento che sono tutti nomi che hanno dato lustro alla nostra comunità. Grazie. Se abbiamo ancora un po' di tempo, possiamo entrare in merito e raccontare anche qualche aneddoto. Prima cosa vogliamo dire che siamo proprio in tema con naturalmente tecnologici perché parliamo di storie così antiche ma utilizziamo strumenti moderni come Whatsapp o utilizziamo una pagina Facebook per divulgare i contenuti, per far conoscere i contenuti e quindi c'è sempre un nesso tra la storia. A me piace citare un mio amico Rocco Mendissi che filosofo musicista ha creato uno spettacolo dove unisce strumenti arcaici con elettronica, strumenti elettronici e l'ha chiamato il futuro alle spalle. Allora il futuro alle spalle è proprio il titolo che ci sta bene anche in queste occasioni, anche come naturalmente tecnologici perché per andare nel futuro dobbiamo conoscere la nostra storia. Parlando di memoria storica alcune cose sono rimaste nella memoria storica, sono arrivate fino a noi ma molte altre cose abbiamo scoperto che si sono perse. A partire proprio dalla memoria storica della presenza di Cavalieri di Malta che si è persa, per vari motivi ce l'ha spiegato Innocenzo perché come padroni non erano buoni come si vuole far sembrare per questo motivo. Però voglio raccontare un'anetdota ad esempio. Un giorno su Facebook vedi che c'è delle foto di un luogo che era stato pulito dal consorzio di Bonifica dove da questa pulizia, questo luogo incantevole vicino al paese, è uscita con una fontana monumentale con due vasche e un monogramma. questa fontana, poi parlando anche con l'operatore, parlando con altre persone, in dialetto la chiamavano Fontana Fondanette, era conosciuta con questo nome e se ne era persa la memoria storica, almeno la maggior parte delle persone non conoscevano questo posto perché è un po' nascosto, è una proprietà privata e perché poi negli anni è stato avvolto anche dai ruvi, era stata nascosta anche dalla natura. Diciamo da questa pulizia emersa e questo signore fece le foto, io le vidi e iniziato a fare domande. Dice dove si trova questo posto? Come si chiama la fontana? Poi continuando gli studi sempre su questo gruppo, per caso una volta un altro signore, si chiama Antonio Lacertos, che sta a Potenza, un altro studioso, parlando della situazione idrica perché al fine 1800 c'era il problema della situazione idrica perché l'acqua a disposizione era poca in base alla popolazione e quindi il comune cercava dei rimedi e affidava degli incarichi a degli ingegneri per cercare anche di spendere il meno possibile, il problema era sempre le risorse economiche. Allora diedero l'ingarico a un ingegnere Stefano Adesso, prima ingegner Rosi, poi a Stefano Adesso e questo Antonio Lacertos postò proprio un estratto di questa relazione dove c'erano l'elenco delle fontane con le portate. E quindi tra le fontane pubbliche, c'erano quelle note, tra le fontane private c'era scritto Pilaccio Viscera. Allora questo Pilaccio Viscera, con un altro signore, Tonino all'insalata, diceva, Tonino ma può essere che questo Pilaccio Viscera era fondana fondanetta? Perché questa fontana sicuramente era la quarta fondana citata nei cabri di cabri di Malta, i cabri erano questi inventari dei posti di cabri di Malta dove si trovavano anche informazioni sulla comunità. E quindi parlava di quattro grandi fondane a disposizione della comunità. Sicuramente la quarta era questa, questo Pilaccio, che però era privato, ecco perché nessuna mappa compariva, perché era una fondana privata e si chiamava. Però avevamo intuito che era fondana fondane della Pilaccio Viscera, però mancava la conferma, diceva, come facciamo ad affermare che era proprio quello? D'altronde su questa fondana c'era un monogramma con tre lettere, la V e la G, è l'anno in cui è stata restaurata, 1879. Tonino all'insalata, che oggi non c'è un altro signore che fa parte di questo gruppo, un ingegnere all'insalata, va a chiedere al proprietario, ma prima di voi chi possiedeva questo fondo? La famiglia Motta di Salandra. Leggendo il libro di Poter Andorfi, sempre sulla storia di Grassano, si parlava delle famiglie proprietari terrieri dell'Ottocento e si parlava di questa famiglia Viscera, che era diventata una famiglia di massari che poi erano diventati grandi proprietari terrieri. Alla fine l'erede, uno degli eredi di questa famiglia Viscera si chiama Viscera Giuseppe Arcangelo, la cui figlia Cristina Viscera aveva sposato l'avvocato Motta di Salandra. Quindi il cerchio si chiude, confrontando fondi scritte con fondi orali, siamo risaliti alla fontana Fontaned, che era il pilaccio Viscera, che era una fontana privata. Cioè questo è un esempio di come abbiamo lavorato collaborando, scambiando informazioni. Sono impressionato, posso dire, da esterno, sono impressionato dal lavoro certosino di alcune di questi ritrovamenti. È veramente un lavoro di mettere insieme i frammenti e di ascoltare... Un altro aneddoto simbatico è legato sempre a... Innocenzo ci ha fornito dei documenti fantastici, inediti. Lui è un... Nell'archivio... Lui conosce tutti gli archivi d'Italia, praticamente, del Regno di Napoli, almeno possiamo dire. Del Regno di Napoli. Ha trovato dei documenti spettacolari. Poi io non ero un appassionato, mi sono appassionato grazie a loro, guidati da loro. Però mi fa piacere una volta appostato un documento dove c'era il commendatore, perché tra i vari privilegi del commendatore c'era quello di dare il diritto, decideva lui chi poteva piantare le vigne, chi poteva costruire le case, il pozzo. Quindi se non ti dava, diciamo, il permesso di piantare una vigna, costruire una casa, che poi, diciamo, il convenso era solo una gallina, era un convenso simbolico, però questo diritto manifestava il potere fedotale, cioè decideva lui chi poteva fare e come poteva fare. E allora Innocenzo postò un documento dove c'erano i perseguiti, una certa contrada, contrada a cupolo, dal commendatore perché avevano piantate le vigne senza permesso. E tra questi c'era un certo Domenico allo strancio. Mi ha fatto piacere pensare che fosse un andenato ribelle, che si è opposto al potere della convenzione. Stiamo scherzando, però... Vignaioli di frodo, la prima volta che... Parliamo di un documento del 1730, ecco. Però per dire anche le curiosità, perché Innocenzo dice ogni tanto postava, ecco, ho voluto raccontare qualche aneddoto pure proprio per far vivere l'esperienza, ecco. Va bene. Io vi ringrazio innanzitutto per i vostri contributi preziosi e di essere qui, insomma. E poi io avrei una curiosità e poi vorrei anche aprire però il microfono, come giustamente Innocenzo diceva, eventuali domande, curiosità, immagino ce ne siano tante. Però insomma apro un po' le danze. Hai parlato all'inizio, Domenico, di questi tre obiettivi, di creare una rete, una comunità, di fare ricerca e si è visto da quello che avete fatto che unire tante teste, tante esperienze, tante professionalità, anche perché per fare ricerca ci vuole... ha creato delle scoperte, delle vere e proprie scoperte che magari riscrivono anche la data di nascita o di scoperta del paese o aggiungono dei dettagli. Il terzo punto, quello che dicevi della conservazione e della preservazione, che è quello un po' più a lungo termine, come lo vedete? Tutta questa ricchezza di riferimenti e di scoperte... Purtroppo vorrei passare la parola Innocenzo, però non la passo altrimenti sarebbe... Lo vedo che... Purtroppo... Se vuole intervenire lo... Purtroppo è rimasto poco del matrimonio storico-culturale. Adesso noi regaleremo all'associazione SISCRAT una stampa dell'antica porta di accesso al paese, la porta medievale, che è stata distrutta negli anni italiani 50 e 60. E quindi attraverso... dopo la diamo a... No, gliela diamo qua a Giuseppe. Ah, sì, prego. Ecco qua. Questa è un acquerello fatto da un artista di Pisa su una ricerca storica fatta da più persone, da Giuseppe Innocenzo e anche da fondi locali, rappresenta l'ultima porta di accesso al paese che è stata distrutta negli anni 50 e 60. Purtroppo dagli anni 50 in poi tutto quello che c'era, proprio perché come dice Innocenzo Grassano non ha storia, è stato distrutto. Rimane poco o niente. Però quel poco che rimane, se lo valorizzi, se fai capire che vale qualcosa alla gente, questo è lo scopo della pagina Facebook, magari la gente chiede all'amministrazione alla comunità e bisogna renderle fruibile quel poco che si ha e preservarli. E questo è il fine ultimo. È lo scopo della... c'è lo scopo ultimo di questa associazione. Non è un'associazione, è un gruppo spontaneo, però l'obiettivo finale è quello. Cioè quello di preservare quel poco che è rimasto, oppure di riavvivare la memoria storica di quello che c'era prima. Dice prima qua c'era una porta, qua invece c'era una lapide, abbiamo scoperto ultimamente che c'era nel convento, c'era un epigrafe. Si sta muovendo qualcosa, i ricercatori si sono messi in moto, hanno rispolverato i vecchi progetti a cassetto. C'era una chiesetta del Seicento che non c'è più adesso, quindi... Cioè parlando del Purgatorio? Del Purgatorio, sì. E anche la Cappella dell'Angelo non esiste più. La Cappella dell'Angelo. Purtroppo lavorando scopriamo che la maggior parte delle cose non ci sono più. E questo è un dato molto negativo. Cominciò con il castello che nel 1789 era ancora pienamente fruibile, abitabile, con i vetri storiati alle finestre e nel 1820 dopo 30 anni si disse venne raso al suolo. e al suo posto adesso c'è lo spiazzo davanti alla Chiesa Madre. La Chiesa Madre. La Chiesa Madre, sì. Posso dire rapidamente qualcosa che riguarda non Grassano ma la nostra regione, sempre legato, scusate se è un mio pallino, allo sfruttamento che si faceva di queste popolazioni. C'è nel Vulture, la parte settentrana della regione, una abbazia che si chiama Sant'Angelo a Vulture. Questa abbazia venne lasciata in eredità nel 1595 al cardinale Federico Borromeo. Voi ricorderete che ha letto i Promessi Sposi, ricordo il cardinale Federico Borromeo. Questa abbazia dava una rendita di 6.000 ducati all'anno. Federico Borromeo disse, mi devo prendersi 6.000 ducati all'anno e andò dal suo confessore che era San Filippo Neri e San Filippo Neri disse, piglio tra i figli miei, se no chissà che fino fanno questi soldi, se così potrai fare del bene. Però ecco, i due santuomini non hanno pensato che facevano del bene ai poveri della Lombardia e con i soldi dei poveracci della Basilicata. Ecco, quindi, per dire, è una storia, sì sì, che continua. Grazie, scusate. Grazie per l'aneddoto, è molto interessante. Allora, io, appunto, abbiamo ancora pochi minuti, se ci sono delle curiosità o degli interventi o delle questioni del pubblico. Ma che chiediamo ti consegniamo? Certo, certo, grazie. Non so. Prima mi aveva chiesto un ragazzo come abbiamo fatto a ricostruire qualcosa che non esiste, perché è stata butta da giù questa porta. Allora, come si può ricostruire? Grassano è un paese dove tutto quello che poteva essere distrutto è stato distrutto. È un paese senza memoria, ma non perché non c'è la memoria, l'hanno devastata. Allora, lo scopo di questa iniziativa era rimettere. Noi sapevamo che c'era questa porta. Non sapevamo né dove, né come, né come fosse fatta. Allora, la fortuna ha voluto che Innocenzo Bronzino ci abbia segnalato una descrizione esatta di questa porta da una rivista dei primi del Novecento, mi pare, che descriveva questa porta come era fatta, i materiali, la forma. A questo punto siamo andati nel sito di oggi e questo abbiamo trovato. Abbiamo trovato che questa casa non esisteva, c'è una casa in cemento, oltretutto abbandonata. Qui dove c'era la porta c'è uno spiazzo. E abbiamo detto, come possiamo ricostruirla? Abbiamo chiesto alle persone, diciamo, anziane che abitavano lì, e abbiamo avuto la fortuna di trovare il proprietario, la persona che viveva, fino agli anni Sessanta, in questa casa. Il quale, con me che andavo lì a prendere per terra le varie misure, abbiamo ricostruito sulla base di quello che si ricordava lui e altre persone, da dove a dove questa porta era. I materiali siamo andati a vedere nelle mura intorno per ritrovare delle pietre che fossero dello stesso colore, stesso tipo, per vedere, perché normalmente nel Medioevo, quando si costruiva una muratura, si costruiva tutta la muratura. Mettendo insieme queste informazioni abbiamo realizzato un piccolo progettino e qui l'abbiamo affidato a una persona, una disegnatrice, che si occupa di ricostruire ciò che non esiste più, che è stato distrutto, e sulla base delle misure, dei colori, delle pietre che abbiamo trovato è nato ed è stato ricostruito questo disegno fedele. La cosa interessante è stata che, mentre costruivamo questo disegno e ricostruivamo la porta, ci siamo accorti tramite Giuseppe Bolettieri che la porta di Grassano, in realtà, per forma e tipologia anche di materiali, era simile, anzi quasi uguale, alla porta di Tricarico, cioè una porta di Tricarico che dà proprio sulla strada che porta Grassano e queste due porte erano quasi gemelle, perché sia come forma, sia come materiali, erano fatte probabilmente dalle stesse maestranze nello stesso periodo, possiamo avanzare questo. Come vedete, la storia poi dopo ci ricollega ad altre storie. Basta cercare le informazioni, è come si ricostruisce una geologia, si può ricostruire anche la storia di una comunità. Grazie. Adesso chiamiamo... In rappresentanza di Siscrack? Saranno altre domande? Ah, ok, scusate. Non avevo... Volevo solo aggiungere che quello era definito l'arco della buona fede perché c'era una tradizione a Grassano. Sotto quell'arco si andavano a fare i prestiti al buio, senza testimoni e la restituzione la facevano dopo un anno, di nuovo la mattina presto, al buio e sempre senza testimoni. È un esempio di una fiducia, di una generosità, di una solidarietà notevole. Così come notevole è stato l'apporto della chiesa La Madonna della Neve che è nata come Monte della Carità, Monte Frumentario, Monte dei Maritaggi, Monte dei Morti. Cioè dove le persone povere del posto si recavano, una ragazza si doveva sposare, non aveva il corredo, andava lì al Monte dei Maritaggi, alla Madonna della Neve e le davano un minimo di lenzuolo, di corredo per farla sposare. I cavalieri di Malta davano in fitto i terreni e il contadino che li riceveva non aveva la possibilità di avere la semente per seminare, gli prestavano il grano e poi quando lo raccoglieva lo andava a restituire in questo monte. Quindi l'arco della buona fede, così come la Madonna della Neve, secondo me sono degli esempi da studiare, da approfondire, perché rappresentano un elemento di generosità notevole che esisteva. Un'altra battuta sul tema della dimenticanza di Grassano, che ha dimenticato questo, anche Arcangelo Il Vente è stato un personaggio dimenticato dal popolo di Grassano, ma il popolo di Grassano spesso forse ha agito per opportunismo. Siccome Arcangelo Il Vente è stato medico della famiglia reale, è stato sottosegretario durante il periodo del fascismo alla sanità, ma per meriti scientifici, non perché ero un militante fascista, e quindi probabilmente per questo sono stati dimenticati. Quando è cambiato il regime? Io ricordo quando il sindaco Lopergolo fece mettere in piazza Arcangelo Il Vento la statua, che poi ne fecero tre, uno la misero a Matera per opere del professor Rocco Mazzarone, davanti al dispensario antitubercolare, e l'altro al Ministero della Sanità a Roma, quindi un personaggio che era riconosciuto più fuori che dentro il paese. E chi è quello? Ci diceva. Noi passavamo lì davanti per andare a scuola. che è uno, è uno si diceva. Quindi c'è da scoprire anche se c'è un atteggiamento di rimozione per questo fatto. Grazie. Grazie mille. Chiamiamo il rappresentante di Syscrack, adesso Giuseppe Becci. Ecco qua, ecco questa è la stampa per l'associazione Syscrack. Riceve. Anche la busta in omaggio. La porta della buona stessa. Grazie alla scoperta di Grassano che come sempre ci porta contenuti culturali validissimi e ci fa scoprire sempre cose fantastiche. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie ancora, ci salutiamo. Ci sogliamo.